Commercio, industria e artigianato. Come far risollevare l'economia dei territori colpiti dal terremoto nell'anno, il 2010, in cui tutti gli indicatori escludono una ripresa occupazionale? Lo abbiamo chiesto ai rappresentanti di due fra le massime organizzazioni che hanno il termometro dell'andamento produttivo, il presidente della Camera di Commercio dell'Aquila, Giorgio Reinaldi, e il direttore di Confindustria Abruzzo, Giuseppe D'Amico. Se le zone del cratere non avranno degli incentivi forti, non avranno una legge speciale, difficilmente si riuscirà a recuperare. Qui c'è l'esigenza e la necessità di aiutare intanto le aziende che sono presenti e che comunque erano presenti, che oggi hanno difficoltà a riprendersi. L'Aquila è ormai al centro di attenzione del mondo e sicuramente ci sono molti settori, soprattutto di quelli legati all'edilizia, quindi all'edilizia sostenibile, all'edilizia innovativa, alla cosiddetta domotica su cui l'Aquila può puntare. Però per fare questo serve comunque un progetto strategico che in qualche maniera attragga investitori e ci sono le opportunità. Si tratta solamente di mettere strumenti e le iniziative utili affinché interventi che necessariamente all'Aquila dovranno essere realizzati portino sul territorio investimenti duraturi nel tempo.